ciao ragazzi ciao a tutti io sono fox e oggi ragazzi parliamo di l t o batterie allidio lto e letto ragazzi è un'altra tipologia un'altra chimica tanto utilizzata negli ultimi anni lto vuol dire litio titanato ok perfetto ho fatto un video a riguardo dove il di specifico e vi spiego più nello specifico questa chimica i pro i contro eccetera eccetera oggi invece voglio rispondere a una domanda di uno di voi che mi ha chiesto fox ma perché utilizzare l'ife più 4 sia nelle auto che nell'automotive in generale e anche nel fotovoltaico quando c'è anche lto ragazzi la domanda è una interessante e allora gli lto oggi sono la tecnologia più avanzata per quanto riguarda l'accumulo stanno lavorando a nuove chimiche nuove tecnologie che già ci sono ragazzi ci sono le batterie allo stato solito che hanno una un maggior rapporto peso dimensioni capacità ok le lto perché mi piacciono perché ragazzi sono le più sicure ok in toto ad oggi paragonando l'idio ioni l'ife più 4 e dell'etio le lto ragazzi sono le più sicure ci sono tanti video anche qui sul mio canale dove si testano queste celle se tu prendi un lto con un giravide ok per esempio prendi questo un avvitatore e poi a perforare perforare la cella se quella cella è un lto non succede nulla ok internamente succede semplicemente un processo chimico controllato che non porta a niente nelle l'idio ioni invece facendo la stessa cosa ragazzi lì c'è il finimondo le l'idio ioni sono le migliori per quanto riguarda il rapporto dimensioni capacità infatti una l'idio ioni piccola ma ottima capacità l'ife più 4 è un po più grande con la stessa capacità lto ragazzi ancora più grande con la stessa capacità perciò perché utilizzano le lì dio ioni nelle bici ne monopattine nelle auto anche se ultimamente anche tesla ha messo le lì fe più 4 perché ragazzi il pacco batterie può essere piccolo ok può essere piccolo ma nello stesso tempo potente è dare un'ottima autonomia lo step successivo saranno il letto boh ragazzi non lo so nelle auto nelle bici peggio ancora perché ripeto una cella come quelle che state vedendo qui su aliexpress sono le 66 160 come standard e hanno capacità di circa 30 40 35 ce ne sono anche da 45 per ora ragazzi per andare a fare un pacco batterie per esempio 48 volt si necessitano di queste celle tantissime anche perché perché il voltaggio dell'eltio è molto più basso delle litio ioni e nella via di mezzo e lì fe più 4 è letto sono due volte e mezzo circa eccolo qua 28 massimo due e tre nominale questo sa sta significare che per fare una batteria 12 volt fai il conto quante celle in serie servono idem per un 24 idem per un 48 idem ragazzi per un pacco batterie da auto che sono in corrente continua ma con 100 150 200 volt guarda quante ne servono per questo per ora utilizzano video ioni e lì fe più 4 e sotto in descrizione ragazzi vi lascio alcune offerte di queste batterie il maggior produttore questo xin lang xin long e come ti ho detto le capacità variano in base al budget di spesa e al fornitore a questo devi anche prendere una bms eccola qui questa una bms per lto ultimamente hanno anche uscito queste queste sono delle lto ragazzi a forma di condensatore con due pin positivo negativo sono 2.4 volt 2000 millian per ora pacco da 24 137 euro ti lascio tutto sotto in descrizione 10 68 euro spedizione italia gratuita di hl anche di hl perciò spedizione veloce ragazzi queste sono molto più sicure come vedi di hl spedisce queste batterie perché perché qui non c'è rischio incendio delle litio ioni non vengono spedite con il corriere espresso appunto per questo perciò ragazzi per fotovoltaico vanno bene si vanno bene ovviamente non queste perché ce ne vorrebbero un camion meglio queste connesse in serie e in parallelo e però sappi che costano costano e costano tantissimo sono quelle più care in proporzione alle litio ioni e alle live più 4 poi anche attenzione dove vai ad acquistarle perché ci sono tanti venditori furfanti che mettono in etichetta un valore ma vuoi nello specifico è un valore totalmente differente niente ragazzi per questo video è tutto tematica batterie come avete visto presto farò un nuovo video dove unboxeremo le lì fe più 4 che ho acquistato per il mio impianto fotovoltaico sono ragazzi delle prismatiche da 280 per ora e in etichetta ma il venditore mi ha assicurato che partono da 2 e 90 sono una nuova ok tecnologia un nuovo una nuova produzione di live più 4 li andremo a vedere nello specifico se ti è piaciuto il video iscriviti seguimi ciao ragazzi da fox dal bunker di fox e tutto al prossimo vi ragazzi vi ricordo anche le offerte e le collaborazioni del canale youtube se sei in questo video è che perché sei interessato al fotovoltaico ti ricordo che il nostro sponsor principale il più grande uno dei più grandi produttori grossisti nel campo pannelli solari fotovoltaici riserva tutti voi iscritti al canale e miei fans ottimi ragazzi sconti grazie a tutti